Oggi vedremo cos'è CAUT e impareremo insieme come creare una propria attività. Allora, innanzitutto CAUT 6. CAUT è un'applicazione che permette di creare varie attività per rendere più divertente l'attività di insegnamento. Tra le varie attività quella che io preferisco è il quiz. Quindi ad esempio io in classe spiego un argomento e poi creo un CAUT o utilizzo uno dei CAUT già pronti per fare il ripasso. Oppure posso anche fare al contrario, cioè far proporre ai ragazzi, propongo un CAUT su un nuovo argomento per fare il brainstorming, quindi vedere che cosa sanno, per creare un po' di attenzione e di curiosità e poi procedere con la spiegazione. Ma andiamo a noi. Partiamo subito da creare un account. Allora, andiamo su internet, su Google, clicchiamo e scriviamo CAUT e andiamo qua. CAUT Learning Games. Non vi spaventate per chi non conosce l'inglese perché c'è anche la versione italiana, quindi basta andare qua, italiano, e appare la parte italiana. Da iscriviti voi iniziate a creare un account. È gratis. Se nelle varie schermate ogni tanto vi può apparire queste schermate, voi ignorate, andate qua e continuate con il vostro percorso. Quindi stavamo dicendo, ci stavamo iscrivendo e quindi voi scegliete. Io presumo che voi siete degli insegnanti e quindi procedete con il percorso. Una volta che siete iscritti e avete il vostro account, che come vi ripeto è gratuito, arriverete nella vostra pagina. Nella vostra pagina troverete sia la possibilità di cercare dei CAUT già pronti, resi pubblici da chi li ha creati e desidera metterli a disposizione, come faccio io di solito. Quindi per esempio cerchiamo Cyber Gentilezza e troviamo per esempio questo CAUT, è uno di quelli che ho creato io, tanto per avere un'idea. Quindi basta cliccare e troverete le varie domande. Poi invece è possibile creare noi un nostro CAUT. Quindi andiamo qua da CREA in alto e procediamo. Clicchiamo su CREA. Facciamo la parte semplice, CAUT, Sondaggi e Quiz. CAUT vuoto, propongo questo. Allora io iniziamo con quello che ci viene proposto, poi saprete che quando prenderete la mano potrete personalizzare, scegliere vari temi. Vedete qua ci sono vari esempi. Allora, cominciamo. Scegliamo come argomento per esempio Agenda 2030. Perfetto. Descrizione opzionale, però per esempio possiamo scrivere Scopriamo. Andiamo a creare un'immagine di copertina. Possiamo scegliere sia quelle che ci propongono gratuitamente, oppure se abbiamo delle nostre immagini. Quindi qua su Esplora scriviamo Agenda 2030, così ci dà delle proposte. Scegliamo ad esempio questo. Se non ci soddisfa andiamo su Cambia e scegliamo altro. Salva in le mie cartelle. Musica, scegliamo quella che mi propone CAUT. Pubblico, finito. Andiamo avanti. A destra trovate i tipi di domanda che potete utilizzare. Partiamo da questo, il Quiz. Limite di tempo, 20 secondi. Diamo per esempio 10. Punti standard, risposta chiusa. Vediamo il titolo di questa domanda. Allora, quando... No, aspettate. Cosa? È Agenda 2030. E allora proponiamo le varie risposte. Allora mettiamo un libro, oppure un documento, un film, oppure che cos'altro? Una canzone. Diamo la risposta giusta, questa. E scegliamo un contenuto multimediale. Possiamo anche evitare. Però diciamo il bello di CAUT è che il suo potere inclusivo è anche quello di poter aggiungere le immagini, dei GIF, dei video. Quindi questo rende più facile, più comprensibile subito la domanda a tutti gli studenti. Quindi vediamo, di nuovo clicchiamo Agenda 2030. Vediamo. Mi propone questi, ma vediamo anche se c'è... Ecco qua, SDGs, che bello. Cosa proponiamo? Questo, beh. Ok. Possiamo anche cambiare carattere, così via, oppure cambiare la possibilità qua dell'immagine, la schermata. Noi andiamo avanti, facciamo Aggiungi domanda a sinistra. Ecco qua, ci ripropone la scelta. Vediamo vero o falso, true o false. Inizia a digitare domanda. Quando venne approvata l'agenda 2030? E allora, anzi no, se abbiamo fatto vero e falso, ecco un esempio. Io cambio, correggo e scrivo Agenda 2030. Venne approvata nel 2015. E allora do la risposta giusta, vero, e cerco una immagine. Metto per esempio, diciamo, firma. Ecco. Perfetto. Allora, a un certo punto ci sono le stelline. Le stelline sono poi quelle a pagamento. Ma basta semplicemente andare a cambiare. Mettiamo per esempio un GIF. E quindi scegliamo una firma. Allora, mettiamo, troviamo una firma di un documento, di qualche cosa di importante. Cerchiamo qualcosa. Allora, immagini, firmare, ecco, ci dà anche delle proposte. Vediamo, vediamo. Potrebbe, scegliamo uno, proviamo questo per esempio. Considerate comunque che potete sempre cambiare, modificare le domande, anche dopo che l'avete salvato. Qua rimettiamo limite di tempo 10 secondi e così via. Andiamo, aggiungi domanda, eccetera, eccetera. Ok. Ora, se a un certo punto voi siete soddisfatti, andate da salva. Perfetto. O continuo a modificare, oppure guardo un'anteprima. Nel tempo ho aggiunto qualche altra domanda. E procediamo quindi a salvare. Salvo. Ecco. Quando appare questa schermata, vuole dire che io ho dimenticato di mettere la risposta. Quindi, correggo, clicco qua su correggo e non ho aggiunto la risposta. Quindi, quanti sono gli obiettivi dell'agenda 2030? E quindi, inserisco 13, 17, inserisco la risposta corretta, 2030. Metto sempre 10 secondi e faccio salva. Il code è pronto. E noi possiamo scegliere o avere un'anteprima, o iniziare, o condividere. Però, vediamo adesso, invece, proviamo a utilizzarlo. Iniziamo. Perché proprio iniziando noi vediamo se abbiamo fatto degli errori. Simuliamo quindi un gioco. Clicchiamo su modalità classica. Poi, in un altro video, vi spiegherò come funziona la modalità squadra. Andiamo da modalità classica. E quindi, riparte il vero CAUT, che noi stiamo simulando. Carica il pin del gioco in corso. Questo pin... Un attimo, che abbastro qua il volume. Questa musica è bella perché entusiasma, crea l'atmosfera. Però, in questo momento, la abbassiamo. Ok. Quindi, questo pin servirà agli studenti. Quindi, noi daremo in classe agli studenti questo pin. Potranno sia digitarlo nel loro dispositivo, che utilizzare il QR code. Questa sarà la schermata che noi, poi, una volta in classe, mostreremo agli studenti. E con la LIM la condivideremo. Mentre, quindi, loro devono andare, invece, su CAUT. Però, su CAUT.it. Allora, apparirà questa schermata. E, proprio qua, inseriranno il pin di gioco, che è questo. Vi ricordo che il pin di gioco cambia sempre. E l'applicazione è che genera sempre un pin nuovo. Bene. Allora, che cos'altro? Qua, diciamo, non c'è bisogno che giochiamo. E quindi esco. Infine, vi volevo mostrare cosa potete fare quando voi volete, per esempio, modificare, anche in un secondo momento, il vostro CAUT. Voi, andate qua, da giocoteca, dentro la vostra pagina. Cliccate su questo che avete fatto. Va bene, su questo ho anche uno vecchio. Cliccate qua, sulla singola domanda, oppure andate qua, su Modifica CAUT, dove c'è la matita. E ritornerete, quindi, alla schermata che utilizzavate prima. Per esempio, potrete cambiare sia le domande, cancellarle, vedete qua che c'è Elimina, Duplica, oppure cambiare il tema. Possiamo scegliere, per esempio, Autunno. Oppure, cliccando qua, da Temi, possiamo cambiare anche il tipo di domanda. Ecco qua, i secondi, standard, e così via. Da impostazioni. Ricordate, potete mettere pubblico o privato, cambiare l'immagine. Scendete giù, cambiate pure la musica. Per esempio, scegliamo Avventura. Quella, però, giustamente la volete sentire. Eccola. O vediamo Fantasy. E così via. Uno qualsiasi, va bene. Perfetto. Allora, torniamo quindi nella schermata Mantieni Modifiche. Ecco qua. Qua ci sono i CAUT che io precedentemente ho fatto. Invece, come vi dicevo, se preferite utilizzare un CAUT già pronto, basta cliccare qua e ne avrete di tantissimi. Bene, spero sia stato utile questo filmato e, se avete bisogno, vi invito a guardare anche gli altri video dove spiego che cos'è CAUT e le varie opportunità che esso offre. Ciao a tutti! Grazie a tutti!